In una pianta, in una singola vite, quanti grappoli vengono lasciati? Siamo sui 4 o 5 grappoli a vite, per cui già la produzione piccola, poi con un leggero diradamento, capite che le produzioni rimangono sempre abbastanza basse. Qua c'è il Cabernet Sauvignon, intorno all'azienda cos'è che abbiamo? Abbiamo come bianchi la Malvasia, la Vitoska che sono due vitigne autotoni del Carso, il Traminer e il Pinot Grigio e il Sauvignon come internazionali, mentre per quanto riguarda i rossi abbiamo il Terrano e Re Fosco come autotoni della zona per quanto riguarda il Terrano ed Re Fosco per quanto riguarda la nostra regione, il Friuli, e poi il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc che sono i nostri due internazionali, sono un pochino il nostro cavallo di battaglia. Sia i vini bianchi che i vini rossi hanno questa mineralità, questa sapidità che appunto rispecchiano il territorio e poi tutto il lavoro che c'è stato in campagna e poi in cantina rispecchiano il lavoro che comunque è stato fatto in tutti questi anni di proprietà.